Assemigliano Ghizzi, Presidente Gruppo TEA a Mantua. Intervento la pillola sull'intervento di stamattina, su un seminario in generale. Il nostro gruppo, da sempre sensibile agli argomenti relativi alla transizione ecologica, alla transizione verde, ha spinto e sostenuto l'ingresso del gruppo simbolo del seminario e stivola della fondazione nella nostra città. Crediamo fortemente che fare squadre, fare gruppo e condividere le migliori pratiche nei campi ambientali, nei campi idrici, nei campi energetici ci dia la spinta come multi-utility ma anche come territorio per affrontare al meglio le sfide del domani che in questi mesi ci hanno poi segnato dal punto di vista non solamente della crisi energetica ma dalla crisi idrica. Quindi portare nella nostra città le altre esperienze, le altre utilities, le altre imprese e le altre associazioni servirà a tutti noi per migliorare, per fare sintesi e perché no per progettare qualcosa di nuovo in un campo sicuramente al centro dell'attenzione da parte dell'opinione pubblica e dei nostri anche soci, dei nostri utenti, ma che ha bisogno di un grande sostegno e di una grande condivisione. Coesione è sicuramente la parola adatta, competitività altrettanto. Quindi siamo qui per condividere i significati.